Panoramica delle HP Dock Le HP Dock permettono di collegare un laptop ai vostri monitor e di accedere a una serie di funzionalità e accessori avanzati tramite un singolo cavo, aumentando i livelli di comfort e produttività. Le HP Dock sono dotate di porte per tutte le esigenze. Le porte disponibili includono USB-C, Thunderbolt, USB, DisplayPort, HDMI, VGA, RJ45 e molte altre ancora. Le dock espressamente progettate per la configurazione rapida o la portabilità consentono di lavorare ovunque. Le connessioni USB-C o Thunderbolt permettono di trasferire velocemente video, dati ed energia elettrica. Chiunque utilizzi un computer per lavorare, imparare o giocare può utilizzare una dock. Scegliete il modello più adatto alla vostra esperienza di elaborazione, in base al vostro ambiente e al vostro flusso di lavoro. La dock desktop è una soluzione adatta alla scrivania o all'ufficio domestico, che supporta qualunque scenario di utilizzo, con una risoluzione 4K e un connettore per l'erogazione di energia. Una dock da viaggio è un dispositivo compatto che offre ricarica pass-through, gestibilità delle reti e una vasta gamma di porte, ovunque vi troviate. Una dock per monitor offre la soluzione ideale per gli ambienti multi-monitor o le scrivanie di piccole dimensioni. Per trovare video HP in altre lingue, fare clic sulla scheda Playlist in YouTube. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie per la visione!